Io sono la quarta generazione di una famiglia che da sempre ha scelto la filosofia dell'equilibrio con la natura. Vino fa buon sangue e buon sangue non mente. L'infanzia trascorsa tra botti e filari, la passione per il vino vero. Un figlio che tramanda con amore la lezione imparata in famiglia, in piena sintonia con i valori di Expo 2015. Nutrire il pianeta, energia per la vita, quindi la scelta del biologico, la scelta del naturale, la scelta di nutrirci attraverso il vino di un prodotto genuino che sia un medicamento per il corpo e per la salute dell'uomo. Perché se un bicchiere di vino fa bene, un bicchiere di vino biologico fa meglio. L'equilibrio con la natura, quindi inerbimento totale dei vigneti, lotta non chimica e in cantina il non utilizzo dell'anidride solforosa e l'utilizzo solo di prodotti naturali estratti dalle piante. Del potenziale 100 dell'uva noi riusciamo a portare in bottiglia un 90% che è una percentuale altissima rispetto ai vini convenzionali senza l'utilizzo della chimica. E per l'occasione una bottiglia speciale tirata in 3.333 esemplari dedicati all'esposizione universale. Un insieme di 5 cloni di Sangiovese del 2012, certificata biologica come tutti gli altri nostri vini per Europa, Stati Uniti, Canada e prima cantina al mondo per la Cina, da Imola, da Bologna e dall'Emilia-Romagna al mondo.